Buongiorno a tutti da Andrea Cartotto. Dismetto quest'oggi per un attimo i miei consueti panni di docente ed esperto di nuove tecnologie per indossare con orgoglio quelli di Testimonial Unicef Liguria. L'Unicef Liguria mi ha chiesto, e lo faccio con molto piacere, di diffondere il più possibile la bellissima iniziativa Coloriamo l'emergenza edil web, iniziativa che coinvolge prevalentemente i nostri bambini e ragazzi. Invitiamo loro a creare un disegno con tecnica libera, su un foglio di carta, con i pennarelli, con quello che desiderano sul tema emergenza Covid-19. Come i bambini ed i ragazzi hanno visto, vedono, vedranno la nostra vita in questi tempi di pandemia? Il virus è un mostro? Il sole con l'arcobaleno rappresentano una speranza colorata? Facciamolo loro raccontare con un bel disegno. Poi, genitori, adulti o i ragazzi stessi se un pochino più grandi, fate una foto del disegno nei principali formati digitali ed inviatela via email all'indirizzo che vedete anche nella locandina qui accanto sergio.caglieris.it. I disegni verranno poi pubblicati sui canali social della regione Liguria e in una prossima grande mostra che li vedrà tutti accanto l'uno all'altro. Con un disegno e con i colori possiamo in qualche maniera contrastare anche il grigiore di questi tempi in cui senza colpa alcuna ci siamo trovati. Proviamo a rispondere con un sorriso e con l'entusiasmo dei nostri bambini ed i ragazzi, accendendo un barlume di speranza in chi ha sofferto e in chi soffre e per i tempi più lieti che verranno. Dai, partecipiamo, coloriamo l'emergenza ed il web Unice Fliguria e Policlinico San Martino. Ancora un saluto da Andrea Cartotto.